Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Il Tar dice no al forno crematorio a Gaeta in località Sant'Angelo. Decade dunque il progetto preliminare approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre del 2019 a dare ragione al ricorrente proprietario di un terreno adiacente a dove sarebbe dovuto sorgere l'impianto il fatto che i forni crematori in base all'attuale normativa italiana devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e ne sarebbe vietata la realizzazione all'esterno come invece sarebbe stato nel caso dell'impianto in località Sant'Angelo. Un'inchiesta scuote la macchina amministrativa di Ventotene e sono scattate nelle scorse ore le indagini che vedono coinvolti oltre il sindaco Gerardo Santo Mauro anche cinque consiglieri comunali di maggioranza e tre funzionari del comune. Tutti, secondo le prime notizie apparse sui media locali, sarebbero stati indagati per abuso d'ufficio, abuso edilizio e falso in atto pubblico. L'indagine della Guardia di Finanza di Formia, coordinata dalla procura di Cassino, è partita dopo la denuncia del consigliere di opposizione Modesto Sportiello che precedentemente era stato vicesindaco e assessore ai trasporti proprio a Ventotene. Intervento non riuscito che causa danni permanenti a un paziente scatta così un maxirisarcimento di 330.000 euro ad essere condannata l'ASL di Latina i fatti avvenuti nel 2008 all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Lo sfortunato paziente che ha instaurato la pratica legale è un uomo di 46 anni di Santi Cosme Damiano che dopo aver subito un intervento chirurgico al varicocele si è visto derivare l'atrofia ad un testicolo evidenziando la percentuale di danno nella misura del 40% ed escludendo possibili altre cure. Per tale motivo il paziente ha richiesto il risarcimento dei danni subito in seguito all'operazione a difendere la vittima, gli avvocati Giuseppe Damici e Simona D'Accunto. Ancora violenze in famiglia ma questa volta la vittima è l'uomo e la persona violenta la donna a renderlo noto nelle scorse ore gli uomini del commissariato di Formia che hanno fatto scattare l'allontanamento familiare e il divieto di avvicinamento per la donna di 41 anni che spesso diventava violenta nei confronti del marito e della figlia minorenne soprattutto dopo aver abusato di sostanze alcoliche. Secondo le ricostruzioni la donna avrebbe spesso percosso l'uomo anche in presenza della figlia. I burazzisti ai danni dei giocatori del briganti Itri durante il match della scorsa settimana a norma nel campionato di calcio di seconda categoria hanno fatto pronunciare il giudice sportivo con una decisione che sicuramente farà parlare di sé. Nella gara dello scorso 14 novembre infatti come riportato nella deliberazione il direttore di gara ha momentaneamente sospeso il match dopo gli incresciosi fatti chiedendo al capitano della squadra di casa di intervenire per evitare il comportamento e i danni di un giocatore di colore della squadra ospite. Ma sempre secondo quanto riportato dal direttore di gara i giocatori del Itri hanno deciso di abbandonare comunque il terreno di gioco rifiutandosi di portare a termine la gara. Per tale motivo il giudice sportivo ha dato la partita persa alla formazione Aurunca con il punteggio di 3 a 0 e la multa di 500 euro. Questa era la nostra ultima notizia. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.